Il Comune di Modena cerca il gestore del nuovo Laboratorio Aperto. Il Laboratorio Aperto di Modena è un luogo di ricerca, innovazione e sperimentazione per la cultura, lo spettacolo e la creatività. Uno spazio in cui fare impresa e sviluppare nuovi prodotti, servizi, tecnologie. Un punto di incontro tra professionisti, start-up e istituzioni, aperto ai cittadini. Si trova nell'ex centrale AEM, edificio di archeologia industriale riqualificato nel 2017 nel comparto ex AMCM, dove sorgerà il Polo della Creatività e la nuova sede di Emilia Romagna Teatro. Il Laboratorio Aperto è in posizione strategica a ridosso del centro storico, ha una superficie di circa 1200 metri quadri e un ampio parcheggio. È cablato e attrezzato con soluzioni tecnologiche avanzate. Include spazi per co-working, laboratori, sale e riunioni e conferenze, che sorgono attorno a una galleria centrale di 700 metri quadri. Dispone di una zona ristorazione con un'area esterna. Per la sua gestione, cerchiamo soggetti in grado di sviluppare prodotti e servizi innovativi per lo spettacolo e la cultura. La concessione ha una durata di 8 anni e prevede un contributo di 800.000 euro. Per tutte le informazioni, consulta il Bando Online. www.ALIBU Aperto è iniziato in grado di sviluppare prodotti.